Fabrizio Teghesi, buongiorno, è un vero piacere e sincero rivederti qui alla prima di questo campionato, sei già carico? Abbastanza, il fango un po' ti scarica, però cerchiamo di fare il meglio possibile anche in tutte le situazioni che ci sono, diciamo. Certo, e vedo comunque che in linea di principio le tue attrezzature, i tuoi materiali rimangono quelli dell'anno scorso, ma c'è anche qualche novità. Sì, ho alcune piccole novità, diciamo, su alcune tipologie di sponsor di materiali di contorno, diciamo, quindi servocomandi, cuscinetti e in più altre cose. Altre cose, so in particolare proprio che tu hai appena lanciato un brand tuo nel segmento dei lubrificanti. Esatto, ho creato un brand che prende il nome di FT Tech ed è, diciamo, un'idea, una prova, qualcosa per partire con un marchio. Attualmente è monoprodotto, abbiamo soltanto oli siliconici per ammortizzatori e per differenziali, ma speriamo in futuro, è un gioco, partiamo per scherzo e poi vediamo come va a finire. Comunque so che tu in questo momento stai già guardando sia il mercato della competizione professionale, ma anche quello più, come dire, consumer. Certo, ho fatto alcune, diciamo, idee, poi non sono poi tante idee. Ho creato i combo kit, ho messo in condizione, diciamo, anche di essere contenti sia i negozianti che i piloti, appunto, anche della domenica, essendo un prezzo abbastanza concorrenziale e avendo, appunto, ideato questi combo kit, che sono, diciamo, un kit base di oli, dove il 90% delle macchinine va con quegli oli lì e quindi con pochi euro, meno di due o tre anni di gomme, in valore, ci si leva il dente e abbiamo tutta la linea degli oli. Cosa che, invece, per un privato, per uno che non fa gare ad alto livello, solitamente troviamo nella cassetta due, tre, quattro brand di oli diversi. E così è tutto sincronizzato. Ma c'è un sito internet di riferimento? Sì, il sito internet, allora, chiaramente tutte le informazioni potete chiedere sul mio sito, che è www.fabriziotechesi.com mentre il sito proprio del brand è www.fttproducts.net L'ho detto senza pronuncia per far capire come si scrive. Ho apprezzato. Tornando, invece, alla tua macchinina principale, siamo sempre Chioscio, hai fatto qualche modifica in termini di assetto, di preparazione? Abbiamo, appunto, sì, sempre Chioscio, sempre TKI3, perché, infatti, è uscito pochissimi giorni fa l'aggiornamento, in occasione della gara del Neobaggy, l'aggiornamento della Chioscio, che, appunto, consiste negli omocinetici per risolvere il famoso problema che alcuni hanno avuto delle rotture. In più abbiamo la piassa radio nuova con il contenitore delle batterie e con l'alloggiamento dei servi, che non c'è bisogno di smontare l'intera piazza per sostituire un servo. E in più abbiamo la nuova cassettina della ricevente, che non è più insieme a quella delle batterie, ma è segata, praticamente. E una piastra ammortizzatore anteriore, che è identica, ma, soltanto, è una via di mezzo fra la WC e la TKI prima serie, diciamo. Quindi, con le fresature a metà, né troppo profonde come la TKI, né liscia totalmente come la WC. Benissimo. Quindi, sei bello carico, agguerrito, diciamo, immagino che tu abbia ambizioni piuttosto consistenti. Ma, eh, cerchiamo sempre di migliorare ogni anno. Lo scorso anno, senza venire a provare nemmeno una pista, come ci tengo sempre a sottolinearlo, perché era una mia sfida, un mio puntiglio e tutto, abbiamo, siamo arrivati all'ultima gara a lottarci il titolo e poi siamo arrivati i terzi. Come dire, se miglioro sempre mi va bene. Oh, guarda, noi siamo con te, sicuramente per la tua disponibilità, ti auguriamo ogni miglior risultato e ci ritroveremo sicuramente sulle piste. Ok, a presto, ciao a tutti.